Aiuto! Detenuto numero 742, portatelo via. Stiamo cercando di creare questo dizionario da vent'anni oramai e io propongo lo straordinario e anticonvenzionale Signor Murray come soluzione e nostra salvezza. È un progetto enorme. È impossibile. Fatemi provare. Chiederemo a dei volontari di scavare nelle proprie vite e trovare le parole che usano ogni giorno. E poi chiederemo loro di mandarcele. Dunque è lei che mi sta aiutando nella mia impresa, orgoglioso di fare la sua conoscenza. Sono davvero senza parole. Lo so. In tutta la mia vita io non ho mai voluto altro. Lei pensa che io sia pazzo? Crede che possa guarire, dottore? Che cosa posso fare per lei? Ne porti altri libri. Non verrà mai riconosciuto come autore di questo dizionario. Di cosa avete paura? Che un uomo malvagio possa redimersi? Signor Churchill! Se anche lei crede che ogni essere umano meriti una seconda possibilità, lo deve liberare, altrimenti morirà. Quando leggo, riesco a volare fuori da questo posto sulle ali dei miei libri. Le parole mi hanno tenuto in vita fino ad oggi. Ero venuta qui per dimostrarle il mio odio. Dovrebbe continuare a odiarmi. Non ci riesco più. Se questo dizionario vedrà la luce, sarà solo grazie a due uomini, un professore e un pazzo. Siamo una squadra. Fratelli. Signor Murray, vi osserviamo, se lo ricordi. Osservi pure. Vedrà meraviglie.